Inchiesta per abuso d'ufficio sul parco commerciale di Contrada Siena di Barcellona coinvolte 15 persone tutte rinviate a giudizio dal GIP del Tribunale di Barcellona a Nadamo per un processo che si aprirà il 2 maggio prossimo Sotto i riflettori le procedure amministrative finalizzate all'approvazione del parco le richieste sono state presentate dal PM Francesco Massara per Rosario Pio Cattafi che viene tenuto l'ispiratore di questo megaprogetto e della società immobiliare di Beca SAS l'amministratrice della società Ferdinanda Corica, poi Maria Idea e Alessandro Cattafi di seguito l'ingegnere Orazio Mazzeo, dirigente comunale e RUP del procedimento i progettisti del piano particolareggiato Mario e Santino Nastasi i professionisti Giuseppe Gangemi e Giovanni Cattafi il geometra Filippo Leopatri e infine i 5 componenti della commissione edilizia che nel 2008 esaminarono il piano del parco Giovanni Milone, Santi Sottile, Sergio Valenti, Antonio Raimondo e Franco Barbera il Consiglio Comunale il 16 novembre 2009 approvò a maggioranza con un solo voto contrario la delibera del parco commerciale per la procura il piano era affetto da vizi di legittimità e nell'attesa della celebrazione del processo riprende nuovamente vigore la richiesta avanzata alcuni giorni fa da rappresentanti della Chiesa Barcellonese Movimenti, Circole e Associazioni è stata inviata al Consiglio Comunale di Barcellona perché, come scritto nel loro documento compia un gesto di responsabilità nell'interesse collettivo e revochi in autotutela la delibera numero 56 del 2009 relativa al piano particolareggiato del piano commerciale di Contrada Siena